Oggi 100.000 ragazzi sono stati protagonisti in questa città, cosa bisogna fare per essere protagonisti della mia vita? Domandone! Un ospite! Bisognerebbe cercare di pensare con la propria testa, perché mi sembra che si vada sempre verso una massificazione del pensiero, una massificazione delle passioni, ci vengono indicate anche le passioni giuste e quelle sbagliate, invece se si riuscisse a trovare un modo per esercitare la propria facoltà di scelta, secondo me usciremmo da questi momenti in buio, da questo periodo un lancio, vuol dire, un colpo di reni, magico quasi.